Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video e particolare video. Sono qui per ringraziarvi perché inaspettatamente, anche se un po' ci speravo, siamo arrivati e sono arrivato ai mille iscritti e tutto questo grazie a voi che mi seguite e spero sempre di più di rinforzare e ingrandire questa community di persone che vogliono cercare, scoprire e visitare luoghi nuovi, quindi vi do qualche avviso nuovo con l'occasione e vi dico che arriverà una nuova playlist nel canale dove porterò delle recensioni di oggetti che io uso per le mie escursioni e vi voglio anche aggiornare sul fatto che da adesso in poi chi vuole può contribuire al canale tramite una donazione, oltre che al mi piace normale c'è il super mi piace e quindi sapete che se volete aiutarmi a crescere e a far crescere sempre di più questo canale c'è il super like e quindi adesso non ci resta altro che festeggiare. ed ecco che questo è per voi, mille iscritti, per me è un onore e vi ringrazio ancora spero che non sia un traguardo definitivo ma sia un punto di partenza, quindi grazie a tutti voi grazie ancora, però come potete immaginare questa me la papo io vi dico le ultime cose e dopo mi spapparazzo tutto il dolce, quindi se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like, passate parola, aiutatemi a fare crescere questo umile canale e vi ricordo di selezionare la campanella per essere sempre avvisati dei video in uscita quindi io vi ringrazio ancora e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao ciao